Finiamo l'anno come nessuno, nel luogo più bello del mondo, Lucignano. È bello perché è un paese indimenticabile, con un'urbanistica medievale che di casa in casa ti porta dentro il passato e poi è illuminato, illumina tutta la Toscana con l'albero della vita, quest'albero meraviglioso. Così Vittorio Sgarbi, sottosegretario della cultura, noto storico e critico dell'arte, in un video diventato virale sui social. L'ultimo giorno dell'anno Sgarbi si è concesso infatti un tour tra le bellezze architettoniche e artistiche della Val di Chiana con una tappa anche al Museo Civico di Lucignano che custodisce l'opera che nel 2015 fece bella mostra di sé all'Expo di Milano. E fu dominante l'entrata che arrivava, vedeva per terra l'Italia di Gaetano Pesce. E davanti festando la Val di Chiana, che è l'emblema stesso dell'augurio, la vita. Sgarbi, di fronte al reliquiario unico al mondo risalente al XIV-XV secolo, alto 2,60 m, realizzato in oro, coralli e pietre preziose, recentemente balzato agli onori delle cronache per il ritrovamento di alcune parti trafugate, oggetto di un delicato restauro a cura dell'opificio delle pietre dure di Firenze, si è lanciato in un bilancio personale senza far mancare i suoi auguri. I coralli che augurano buona fortuna, buona fortuna a tutti voi italiani. I coralli erano il desiderio di mia madre che temeva la sfortuna che talvolta ci perseguita, temeva i violenti che talvolta ci vogliono fare del male, e cercava di sconfiggerli attraverso i coralli, mi portava al colo. Mi trovo qua. A mia madre dedico questi auguri, che sono per tutti voi, perché quest'anno sia un anno in cui si vinca con le buone idee, ciò che è contro la bellezza, contro i cittadini, contro le persone per bene, che sia veramente di resistenza contro il male. Auguri, auguri, auguri.